non ho mai chiamato nessuno sai che c'è? non ho mai 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 ma non ho mai non ho mai a facendo un po' di Grazie andiamo a vedere si andiamo a vederle però c'è scritto pericolo 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 no no si fa benissimo questo cazzo si fa benissimo questo ok ragazzi prima ci arriviamo no 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 Grazie a tutti